Nuovo argomento, gli integrali definiti. Fino ad adesso noi abbiamo imparato a fare gli integrali immediati, indefiniti, e adesso ne vedremo come risolvere invece gli integrali definiti. Ma prima di fare questa cosa vi devo spiegare qual è la loro applicazione. Prima di tutto noi abbiamo bisogno di una funzione, ovviamente, e di un intervallo, un intervallo che chiamiamo intervallo AB. Vi chiedo, vi dico quindi, cosa stiamo per fare. Allora, noi andiamo a graficare, o comunque a visualizzare come è fatta la nostra funzione in un grafico, e prendiamo questo intervallo AB, quindi magari andiamo da A fino a B. Allora, andiamo a disegnare quest'area, quindi l'area sottesa dalla funzione ok, sull'asse X. Bene, ragazzi, anche se sembra non possa interessarvi, o non si dice comunque interessante, quest'area è esattamente calcolabile con l'integrale. tanto che quest'area è l'integrale da A a B della nostra funzione I dX. Quindi, la più grande applicazione dell'integrale è appunto il calcolo di aree e poi in più dimensioni anche di volumi. Cosa abbiamo bisogno noi per, quindi, calcolare un'area sottesa di una funzione e di un intervallo? Occhio però che l'area, il calcolo di aree, serve a brutta sorpresa. Ad esempio, se noi abbiamo una funzione che, ad esempio, non è continua in X uguale a 2, quindi 2 è un punto fuori dal dominio, e magari si comporta in questo modo, io potrei sì chiedervi di calcolare l'area da 4 a 6, perché sarebbe esattamente questa, e con l'integrale noi possiamo calcolarla. Ma se io vi chiedo di calcolare, invece, l'area da 1 fino a 3, e lo fate con l'integrale, ottenete qualcosa che sostanzialmente non ha senso. Questo perché, nell'intervallo che noi studiamo, la funzione deve essere continua. In altre parole, i punti che rompono le scatole nel dominio non devono far parte dell'intervallo. In sostanza, se io avessi questa funzione, visto che il dominio era X diverso da 2, io avrei potuto tranquillamente fare l'integrale da 4 a 6 di f di X in DX, ma non avrei potuto fare l'integrale da 1 a 3 di f di X in DX, perché il numero 2, appunto, stava tra il numero 1 e il numero 3. Quindi, occhio che la funzione, nell'intravallo studiato, deve essere continua. Ultima cosa, le aree calcolate con l'integrale possono essere anche negative. Quindi, se noi prendiamo, ci assicuriamo che una funzione è continua, ma, ad esempio, è una... la nostra funzione è una retta. e io vi chiedo, magari, l'integrale, che ne so, da 0 fino a 3, occhio che l'area sottesa da 0 a 3, e quindi da questo punto fino a questo punto, è quest'area più quest'area. e se queste due aree sono uguali, succede che l'integrale da 0 a 3 di f di X in DX della nostra funzione potrebbe persino fare 0. Questo perché? Perché l'area sotto l'asse delle X è negativa, quindi se quest'area magari facesse, cosa ne so, meno 1 e quest'area facesse più 1, è logico che l'area totale fa 0. Quindi, riassumendo, quando noi facciamo l'integrale da A a B di f di X in DX, questa cosa la posso solo fare, intanto, se non ho punti che rompono le scatole nell'intervallo A B, quindi se f di X è continua nell'intervallo A B. In più, occhio che l'area è un'area che ha segno, quindi potrebbe essere positiva, potrebbe essere uguale a 0 e potrebbe essere negativa. Facciamo tre esempi, ad esempio, un'area positiva potrebbe essere questa, un'area negativa potrebbe essere questa, mentre un'area nulla potrebbe essere ad esempio questa. Ora, dopo che abbiamo capito un attimo l'applicazione dell'integrale, vi faccio vedere partendo dalla funzione come si può calcolare un integrale definito. Allora, per quanto riguarda il metodo per calcolare un integrale definito bisogna fare una cosa semplice. Prima di tutto bisogna vedere che la nostra funzione appunto è continua nell'intervallo. Quindi ad esempio facciamo un esercizio semplice tanto da capirci. Integrale di 1 più x alla seconda in dx per x che va da facciamo da meno 2 a più 2. Allora, ad esempio, 1 più x alla seconda è una funzione tranquilla, ha un dominio che è r quindi non ci sono punti che rompono le scatole e quindi da meno 2 a meno 2 non abbiamo punti che rompono le scatole. Quindi, adesso noi cosa facciamo? Ci dimentichiamo momentaneamente degli intervalli meno 2 e 2 nel senso che dobbiamo risolvere semplicemente l'integrale. Allora, l'integrale immediata noi l'abbiamo già fatti quindi semplicemente osservo che il risultato di questa integrale se non ci fossero i limiti meno 2 e 2 sarebbe x più x alla terza fratto 3. Se non ci fosse infatti il termine diciamo gli estremi di integrazione questo sarebbe il risultato con il più c. se invece io devo risolvere gli integrali definiti l'esercizio non è finito perché adesso io devo valutare il mio esercizio da meno 2 a 2 e cosa faccio? Semplicemente questa funzione la valuto prima quando x fa 2 quindi viene 2 più 2 alla terza fatto 3 meno la funzione quindi ho valutato si valuta prima ciò che c'è in alto e poi si valuta col segno di differenza ok? ciò che ho in basso questo è un metodo molto tranquillo quindi viene meno 2 più meno 2 alla terza fratto 3 e cosa viene? allora viene 2 più 8 terzi meno meno 2 meno 8 terzi allora facendo un attimo i calcoli cosa viene? i meno i meno van via quindi diventa più 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 quindi viene 4 più 16 terzi va bene anche con la calcolatrice viene 28 terzi l'esercizio è finito infatti gli integrali definiti i ragazzi non finiscono più con le x e con le c ma finiscono con dei numeri e cosa rappresenta questa cosa qua cosa che voi comunque non dovete fare per il compito però cosa abbiamo trovato? se noi facciamo il grafico di 1 più x alla seconda che era la nostra funzione allora 1 più x alla seconda in 0 fa 1 in 1 fa 2 e in 2 fa 5 quindi è una funzione che poi sale molto velocemente e io cosa ho chiesto? ho chiesto l'integrale da meno 2 a 2 quindi mi sono messo da meno 2 a 2 e ho ottenuto il valore di quest'area se uno avesse un po' di visione geometrica quindi bastava integrare da 0 a 2 e poi moltiplicare per 2 infatti poi queste condizioni di simmetria sono molto importanti comunque ho voluto che quest'area fa 28 terzi non ci sarebbe stato nessun altro modo per poterla calcolare con metodi semplici quindi spero avete capito in che modo si opera quindi in modo teorico se noi abbiamo l'integrale da a a b di f di x in dx se non abbiamo rotture di scatole nel dominio si ottiene la nostra f grande ok che poi va valutata da a a b quindi devo valutare quanto fa la funzione in b meno quanto fa la funzione in a ed è esattamente ciò che ho fatto sopra perché qui ho valutato la mia funzione in b meno e qui ho valutato la mia funzione in a possiamo fare ad esempio appunto ancora un esempio quindi noi facciamo integrale da 1 a 4 di 1 fratto x meno 2 allora attenti perché prima bisogna sempre fare il dominio e qui dovrei dire che x meno 2 deve essere diverso da 0 quindi x diverso da 2 ma io sto integrando da 1 a 4 quindi ho un problema grande come una casa perché 2 purtroppo è in questo intervallo e quindi questo integrale non posso farlo ma mi chiedo potrei fare l'integrale invece da 3 a 5 della stessa funzione la risposta questa volta è affermativa sì posso farlo semplicemente perché appunto il numero che mi rompe le scatole è 2 e 2 non si trova tra 3 e 5 quindi io questa volta posso fare l'esercizio e mi ricordo che l'integrale di 1 fratto x meno 2 è semplicemente l'esercizio e adesso questa cosa va valutata da 3 a 5 quindi andando avanti sotto devo semplicemente valutare la mia funzione quando x fa 5 ok quindi ho valutato quando x fa 5 meno ln di quando la nostra funzione fa 3 e quindi cosa viene ln di 3 meno ln di 1 poi con la calcolatrice scoprite che l'ln di 1 fa 0 e quindi il risultato è ln di 3 allora cosa significa questa cosa che se adesso io vado a fare il disegno di 1 fratto x meno 2 che vi ripeto voi non dovete fare in questo compito però potrebbe essere interessante diciamo saperlo fare allora 1 fratto x meno 2 è una iperbole che si comporta più o meno in questo modo e io ho chiesto avevo chiesto in precedenza l'integrale da 1 a 4 quindi l'area che c'è da 1 fino a 4 e come vedete qui ho delle divergenze che mi potrebbero assolutamente cioè dovrei calcolare quest'area ma ho un problema di asintoto e di divergenza più infinito quindi questa cosa non posso assolutamente farla infatti non l'ho fatta ma se io faccio semplicemente l'integrale invece da 3 a 5 mi metto in posizione 3 in posizione 5 costruisco la mia area e ho finito quindi questo risultato che ho ottenuto era il logaritmo di 3 quindi significa che quest'area fa l'ln di 3 ultimo esempio per vedere un inganno dell'integrale definito se io faccio l'integrale da ad esempio meno 1 a 2 di x allora vediamo cosa otteniamo l'integrale di x in dx è x alla seconda fratto 2 e dovrei mettere il più c ho già finito l'esercizio ma io devo valutare da 2 a meno 1 allora se valuto viene allora 2 alla seconda fratto 2 meno meno 1 alla seconda fratto 2 e cosa viene 2 alla seconda fa 4 fratto 2 quindi viene 2 meno un mezzo che fa tre mezzi o 1,5 allora 1,5 che area è? è andiamola a vedere perché io ho fatto l'integrale di x da meno 1 a 2 quindi x y uguale a x è una retta che fa così è la bisettrice del primo e del terzo e sono andato da meno 1 fino a 2 e viene 1,5 allora perché viene 1,5? perché ho calcolato la somma di queste due aree ok? la somma singola di quest'area farebbe 2 la somma di questa piccola parte farebbe un mezzo però con l'integrale è meno un mezzo quindi giustamente se io vado a calcolare l'area totale questa mi porta 2 questa mi porta meno un mezzo e quindi l'area totale è più piccola di 2 e infatti fa 1,5 è più piccola